Siamo nella stanza da letto di Don Giuseppe Diana e Marisa e Emilio, il fratello e la sorella, stanno donando al Museo Mammat una cosa preziosa e gli oggetti che ci consentono di riprodurre questa sua stanza, la stanza dove Don Peppe ha vissuto. Marisa. Allora, noi vi doniamo questo paramento, anche se con un nodo alla gola e al cuore, perché il ricordo affettivo è troppo grande, però lo facciamo proprio perché lui era un sacerdote e quindi nel museo i suoi paramenti sono proprio il simbolo del suo sacramento, del sacerdozio. Emilio? Giustamente, come diceva mia sorella, noi lo doniamo a Mammat, quindi per far sì che ci sono le cose vere e proprie di Don Peppe. Perché loro è grande? Lo regalo perché è mio figlio caro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.